Voi non potete capire com'era bella Provvidenza. Ricordare bisogna, dice Elia, alias uno strepitoso Sergio Rubini, protagonista del film Il bene mio, diretto da Pippo Mezzapesa. Elia, ultimo abitante di Provvidenza, paese distrutto da un terremoto, resiste ad una comunità dissolta che preferisce dimenticare e andare via. Elia si autoelegge custode della memoria, rifiuta la rottamazione, ama il valore del recupero. Rubini è stato Elia, che è il nome del protagonista, è stato Elia sin dalla prima parola scritta del soggetto, perché cercavo un personaggio che avesse un chiaroscuro dell'anima, un personaggio che fosse nostalgico, fosse malinconico, ma anche vitale, solare, anche ironico. Rubini ha questa dicotomia naturale in sé, è un attore che riesce a mantenersi in equilibrio molto bene su questo limite. È un film sicuramente sulla memoria, sull'importanza della memoria, l'importanza della memoria legata ad un luogo ben preciso, che è Provvidenza, questo paese che è stato tradito dalla sua comunità e invece è amato, continua ad essere amato dal suo ultimo abitante, appunto Elia. Una bella storia, emozionante, raccontata con realismo e magia. A Barletta il regista Pippo Mezzapese e la sceneggiatrice Antonella Gaeta incontrano il pubblico del cinema opera. Applausi per il Bene Mio a Venezia, evento speciale nelle giornate degli autori dell'ultima edizione del festival. Questo film devo dire che sta dando tante emozioni. Gli applausi di Venezia sono stati scroscianti, sono stati lunghi, e sono stati un bel premio per me, per il film e per tutti i miei compagni di viaggio. E l'impegno sociale e civile dell'ottimo Mezzapesa, nativo di Bitonto e da sempre legato all'identità e alle radici del territorio e delle comunità del sud. L'anteprima ad Amatrice? È stata un'esperienza forte, molto forte, perché era molto temuta da me e anche dagli altri miei collaboratori. È stata fortemente voluta da altre storie che la produzione e da Rai, cinema. E devo dire che è stata una scelta giusta, perché la popolazione di Amatrice è stata felicissima di vedere questo film e ci ha accolto con un abbraccio molto caloroso e anche con la giusta commozione. Ma il messaggio di questo film così bello, così vero, nel suo realismo e nella sua magia? Il messaggio è l'invito a conservare pura e fedele la memoria del nostro passato recente, recentissimo. È un paese smemorato, è quello che temiamo di più. E adesso ci sembra, proprio in questo particolare periodo, che si tende a fare tabola rasa di quello che è stato. L'invito è imparare da quello che è stato, per non ripetere gli stessi errori e di contro, recuperare il passato per, come dire, costruire un futuro che sia all'altezza di quel passato. Il cinema può aiutare tutto questo? Il cinema è una risorsa grandissima che dobbiamo custodire, così come custodisce Elia, il ricordo del suo paese. E ora cosa frulla nella mente di Pippo a mezza pesa? Nelle belle storie.